Viene considerata come l'amante di Vladimir Putin, l'attuale presidente russo. Si tratta, come già vi ho detto in un altro dei miei video, di Alina Kavaeva, la quale è apparsa di nuovo a Mosca, la capitale della Russia, e sarebbe stata paparazzata da parte proprio dei paparazzi, scusate il gioco di parole, con addosso una fede inuziale, questo sembra, andando a suscitare voci che la donna in questione avrebbe sposato il presidente russo mentre era nascosta. Fino ad oggi avevano ipotizzato che Alina si fosse occultata, si fosse nascosta in una villa stupenda della Svizzera, e che, diciamo così, si sarebbe poi nascosta in un bunker sottorraneo della Siberia, ma è stata avvistata di recente a una prova di ginnastica di tipo ritmico per i ragazzi a Mosca, capitale della Russia, facendosi vedere un'apparizione pubblica dopo diverse settimane di tempo. L'allenatore ha condiviso, ha messo nel web la foto dell'evento su Instagram, nonostante il divido di immagini dall'interno delle proprie da parte e proprie della Russia. Ripeto, la donna appare con una Russia, e sarà sposata con Vladimir Putin? Non si sa, ai posti, l'ardo sentenza da Lardo Italia è tutto, ciao a tutti.